sharewood.it Io soprattutto quelli che insomma magari appunto ti ha chiesto della collaborazione ovviamente li assecondo sempre incuriosito anche perché qui di cose strane ne vediamo tante ogni giorno c'è neanche uno al tuo fianco adesso ci arriviamo quindi gli do lo scotch cart e lui riesce con la videocamera legata naturalmente in maniera appunto precisa da ingegnere a questo timer è andato un po' in giro e naturalmente si è divertito parecchio e noi è molto a vedere le sue clip vediamo se ci divertiamo tanto a vedere anche le hot shots del giorno esatto dobbiamo introdurre nel nostro salottino della web tv Franz Franz fotografo della stand di fotografi e non potrebbe essere altro ovviamente noi lo conosciamo lui nella vita noi lo conosciamo si è un bravo ragazzo in realtà il telecamera è più irrigidito che nella vita noi vorremmo portarlo a essere sciolto come nella vita quindi o ci portate delle birre oppure lo aggrediamo immediatamente mostrando le foto le fotografie che hanno scelto e lavorato tutto il team delle web foto appunto di Sherwood e Franz ti invito a guardare il nostro video per appunto commentare con noi come abbiamo visto nel diario del giorno si mostrano anche i particolari le cose più nascoste magari del festival oggi abbiamo 12 fotografie di queste 12 molte riguardano i vari dettagli che ci sono durante lo Sherwood durante il festival c'è tanta vita ci sono tante scene che molte persone non riescono a vedere noi cerchiamo di cogliere con i nostri scappi ma è quasi eroico ma anche che la gente non vuole vedere spesso noi capito non vuole è una cosa serissima posso dirti un'altra coincidenza oggi mi dicono il compleanno di Ernesto Guevara noi non abbiamo ancora verificato questa notizia ma tutti battono le mani dicono che è vero noi abbiamo fatto il fact checking su una prefazione di una bellissima biografia dice Guevara c'è scritto che il dettaglio è la cosa più importante di tutte e questa citazione che ha fatto il nostro Franz fotografo era sicuramente voluta un applauso a Franz grande cultura uomo incredibile commentaci pure le foto nel display davanti a te prego ieri c'è stato un live dei Mannachi molto coinvolgente molto coinvolgente il loro sound il loro groove si sentiva e questo emerge anche dalle fotografie noi lì vediamo un sassofonista quel sassofonista ha fatto tanti di quei numeri che metà basta aveva gli occhiali da sole tutto il tempo suonava il buio completo perché sappiamo che il main stage è bello illuminato ma il second stage qua è un ambiente un pochino più raccolto e lì vediamo un sassofonista veramente molto molto partecipi erano presissimo era tanto preso tanti che ballavano tantissima gente qua il dettaglio sta nella collana cioè il dettaglio di cui parlavamo dov'è? il dettaglio sta nel sopracciglio tu lo vedi che è abbastanza leggermente curvato sopra quello sinistro grazie andiamo avanti una foto successiva questo è un altro dettaglio ci sono tante persone che questo non l'hanno visto ancora questi sono tappi di sughero ma dove bisogna guardare per trovarle scusami questo è un dettaglio in un bacchetto e non saprei dirti quale di preciso perché non l'ho scattato io questa foto anche perché bisogna bere del vino per poi trovare questi dettagli così vero infungibili bisogna trovare le ispirazioni i cancelli di cui parlavamo ieri ma non torniamo su questo argomento Carlo ti scongiuro i tappi di sughero no no sto seguendo da questo monitor ma era l'altra cosa che non volevo che Franz questa foto è molto simbolica quella lì dei tappi di sughero questa è molto simbolica caro Carlo Vitelloni si può fare a meno di te si dice certamente nessuno è indispensabile nemmeno un primo ministro questa è molto artistica questa foto è una metafotografia noi vediamo una fotografia dentro la fotografia ma anche una trasmissione nella trasmissione una metatrasmissione è bellissima io ci vedo anche del Kafka hashtag metatrasmissione vi prego immediatamente qualcuno servo 13 e metatrasmissione grazie Franz per le emozioni contemporanee a noi direbbero chiamate l'ambulanza ma noi siccome siamo molto meglio non sapevo che era così emozionante questo momento di fotografia io ho i pennotti Franz e tutti quanti che parlano male di Franz invece Franz è un bravo ragazzo no perché parlano male di Franz li abilitiamolo perché i motivi sono tanti prega andiamo avanti questa è l'intervista impossibile praticamente del mitico Alberto che aveva 14 o 15 appunto componenti del gruppo ogni tanto arrivava qualcun altro e niente è stato divertente perché si passavano il microfono l'un l'altro e questa rende davvero l'idea del caos che regnava in studio questo è sì è proprio l'immagine della web tv che nonostante sia molto organizzata c'è un organico molto efficiente alla fine ti ritrovi cosa sta dicendo è ruffiano questa è chiaramente è ruffianagile finisce qui lo spazio delle fotografie arrivederci andiamo avanti precisazione in corso perché non l'abbiamo detto queste foto sono fatte da uno staff di fotografi o sono dello stesso fotografo cioè tu no 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 queste qua sono tutte fotografi selezionati vogliamo dire nomi chi sono chi partecipa a questo progetto selezionati è terribile però lasciamoglielo dire perché dopo che ha detto quella cosa là cos'è che era meta meta metatrasmissione la metatrasmissione può dire qualsiasi cosa per altri due minuti velocemente lo staff che ha partecipato a questo progetto di fotografie dottor Franz le fotografe di ieri perché erano soprattutto fotografie dobbiamo ringraziare la Ali dobbiamo ringraziare la grandissima Martina Manganello autrice di scatti bellissimi nonostante la tenera età è molto giovane lei si dice ma si dice che prometta benissimo dal punto di vista promette veramente bene da tanti punti di vita almeno da voi ci sono delle giovani eccellenze da noi siamo già tutte melemarce no la cosa interessante sai quando tipo non so vedi un giovane che gioca a pallavollo dice quei olavia in su bene l'altro giorno c'era uno di quelli poderosi insomma che fa il fotografo non diciamo niente ma io posso dire hashtag poderoso e praticamente lei e lui hanno fatto la stessa immagine e forse però non diciamo l'altra cosa andiamo avanti non ho capito niente continuiamo ma che ti frega ma questa cosa la possiamo spiegare anche meglio questo qua apposta oh qua è l'anteprima del fatto ma questo è il conflitto di interessi perché lui questa è una leggera pubblicità sta promuovendo la sua mostra è una porcheria diciamoci anche questa quella non è neanche la mia facciamogli spiegare si spieghi questo ci vuoi dire e diccelo te quando è di cosa parli io voglio dire una cosa che c'è uno spazio dedicato alla fotografia che non è questo allo Sherwood Festival di quest'anno c'è in libreria un'esposizione fotografica il tema è la rivoluzione araba e per questa settimana ancora per qualche giorno potrete ammirare gli scatti di Angelo Aprile la settimana prossima ci saranno i miei scatti e la settimana successiva quello di Alessandro Rampazzo e tu che cosa racconti con i tuoi scatti? io con i miei scatti racconto quello che abbiamo visto con la carovana che si è svolta in Tunisia a cavallo di Pasqua organizzata dall'associazione Yabasta che ringraziamo anche e ci inchiniamo e ci inchiniamo ma continuo con questa intervista con la schiena piegata giornalista indipendente Ivan Grozzi ma anche in ginocchiazza è bellissimo parlare di questa cosa però è bellissimo quindi continuate pure andiamo avanti con le immagini però ci ritorneremo sulle mostre ci ritorneremo sicuramente e questa è una cosa anche curiosa questa è un'altra novità di quest'anno perché noi vicino al nostro stand faremo delle foto di gruppo a tutti gli artisti è una bella cosa introdotta è una cosa abbastanza classica per carità bella lo decidiamo noi se è bella voi l'avete introdotta Carlo ma questi decidono anche se è bella o brutto quello che fanno diciamo noi se è bella e devo dire che non ci piace non ci piace non ci fa cagare rientra nelle consuetudini però ci sta insomma secondo noi dobbiamo raddrizzare un po' la schiena ci piace ci piace davvero quindi anche i fan se possono avvicinarsi e fare le foto con o soltanto voi eventualmente se non scassano la mente è una bella notizia si sta un po' insieme tutti quanti i vicini sono finite o quante ce ne sono ancora più o meno sono quasi finite abbiamo un po' di foto di loro e questo è l'incontro di ieri sera l'incontro su ieri sera l'incontro sui la questione dei generi gli studi di genere eccetera è stata una serata interessante subito dopo scusate subito alle 21 diciamo è stato uno dei primi appuntamenti di approfondimento curati dal mitico avvocato Aurora D'Agostino che vediamo appunto in centro inquadrata che salutiamo salutiamo ci sta guardando sicuramente andiamo avanti questa è un'altra foto sempre questa qui è la da lei che è una docente dell'università di Padova che insomma è famosa carica di contenuti questa donna si si è parlato insomma cose è stata una serata bella questa inquadratura sui palloni complimenti ai cameraman i palloni che sono stati la novità di ieri la novità di ieri colta anche stiamo migliorando palloni che parlano come vedete che c'è il microfono appoggiato la fotografia Carlo Vittello non l'ha proprio capita ma in generale no no ma io sto apprezzando i dettagli sto apprezzando i dettagli ma questo è un simbolo anche perché si vede la giocosità della web tv in questa fotografia ma guarda che veramente fantastico a ruffianaggine siamo al top e la metatrasmissione possiamo domani chiamare qualcun altro fotografo a parlarci di queste ragazze giovani questi giorni magari invitiamo queste ragazze giovani esatto grazie vecchio rudero e franzo abbiamo finito le fotografie no abbiamo ancora delle foto di live perché i mannacchi erano veramente belli bello davvero sì devo dire è stata una serata molto bella loro molto simpatici corriamo andiamo ancora avanti non so se ce n'era ancora e dovremmo essere guarda mi fa una pancia sta maglietta pazzesca Carlo incredibile questo era il pubblico dei mannacchi è vicino a Franza è vicino a Franza infatti è quello il problema e questa è molto anche mi piace qui quelle dal basso mi piacciono sempre che si veda il crea la prospettiva crea la prospettiva composizione delle immagini davvero un bel lavoro questa è un po' ritoccata dove si trovano le immagini tutte queste foto si trovano su foto.sharwood.it il nostro fantastico sito si possono anche vedere su facebook su facebook nella pagina Sherwood Festival la fanpage che se non avete ancora messo il like vi consigliamo di metterle insomma ma ci caviamo su due lire le sono in vendita queste foto oppure queste foto saranno in vendita sempre nello spazio vicino alla mostra stampate naturalmente stampate naturalmente sì sì 10x15 formato standard delle fotografie come si faceva una volta a Grollini benissimo Franz abbiamo finito ti abbiamo veramente spremuto lo salutiamo c'è stato straordinario per essere la seconda volta la terza volta si può fare tutto da solo non ci sono problemi no 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 è l'ultima volta direi che parliamo con Franz lo ringraziamo per la sua collaborazione domani sera verrà questa ragazza nuova di cui hai parlato prima ciao Franz e complimenti per il lavoro che hanno fatto gli altri fotografi li hai raccontati comunque molto bene questo è lo Sherwood Festival Sherwood.it per seguirci una clip e torniamo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti